A mediazione Next Gen alla prova del mercato i partecipanti Denis Andrian, direttore generale di XP Italy Victor Ranieri, general manager Italy di Casavo Manuel Pasqua, CEO Italia Daniel Debasch, founder di Rock Agent E Ilaria Profumi e Meia, regional director di XP Realty Vedo che c'è un collegamento da remoto ma ci spiegherà tutto Paolo Leccese Dov'è Paolo? Eccolo qua, grazie Prego, prego, accomodatevi Adesso è dura eh ragazzi Dico a voi che siete seduti perché dopo aver mangiato questo è un orario un po' particolare Ma gli argomenti che tratteremo saranno molto molto interessanti Perché parliamo appunto di mediazione di prossima generazione E soprattutto la dobbiamo mettere alla prova col mercato Ma manca qualcuno, no? Sì, manca qualcuno che è il collegamento Scusate perché vedevo una sedia vuota Allora, quindi saluto Daniel Debasch che è in collegamento Founder di Rock Agent Ci senti? Buon pomeriggio Sì, perfettamente Perfetto Allora, dicevo, nuovi modelli di mediazione che si fanno spazio in questo mercato Prima abbiamo sentito parlare, Rudy Bandiera, di come sta evolvendo la percezione Diciamo di tutti noi che utilizziamo il web Abbiamo sentito parlare di metaverso Abbiamo sentito parlare di nuove percezioni che abbiamo rispetto a queste nuove tecnologie L'immobiliare italiano, ci chiediamo È davvero pronto a una svolta digitale per il servizio di compravendita? Cosa succede in Italia e in Europa e nel mondo? Ce lo facciamo raccontare dai nostri ospiti Iniziamo da Dennis Andrian XP ha fatto notizia, per l'accento dato proprio al metaverso di cui parlavamo prima Come dimensione operativa, formazione e networking Vuoi spiegarci quale opportunità porta agli agenti questo modello cloud-based? Allora, intanto ringrazio Rudy perché mi ha già portato via metà dell'intervento Ti ringrazio soprattutto per la spiegazione che hai dato al metaverso E la cosa che mi ha fatto piacere oggi scoprire Che sei delle sette caratteristiche che hai elencato Sono già il metaverso di XP Già dal 2018 quando abbiamo iniziato a essere nel metaverso E crearlo attraverso la nostra azienda Quali sono i vantaggi? Il metaverso abbiamo capito benissimo che è una piattaforma digitale in tre dimensioni Dove noi andremo ad apparire e ci contestualizziamo con degli avatar Ma dietro questi avatar ci sono delle persone Quindi attraverso uno smartphone nel nostro caso O attraverso il pc Diamo la possibilità agli attuali nostri 86.000 agenti immobiliari nel mondo Distribuiti in 23 paesi Di connettersi in tempo reale ovunque e sempre Questo cosa significa? Che ovunque io possa essere fisicamente E in qualsiasi momento della mia giornata Io posso usufruire di cosa? Di quello che è il metaverso Cosa ha il metaverso? Che manca i contenuti Noi siamo fornitori di contenuti E i stessi nostri agenti possono condividere contenuti All'interno delle nostre stanze virtuali O auditorium o conference center Come possono essere questi Questa possibilità Questa opportunità per gli agenti È stata colta molto positiva Poi noi sappiamo che in Italia siamo sempre un po' lenti Soprattutto le cose che avvengono negli Stati Uniti O soprattutto quando è qualcosa tecnologico Però dai boomers Che non pensavo Hanno trovato molta facilità Nell'utilizzare questi strumenti L'opportunità è proprio questa Assorbire Avere contenuti Costanti e immediati Perché Oggigiorno Noi dobbiamo essere E come sentivo anche gli interventi stamattina Dei professionisti che in tempo reale Sanno dare delle risposte ai nostri clienti Non siamo più passacarte Siamo dei consulenti reali I quali devono essere veramente i professionisti E capaci di rispondere ad ogni esigenza Ecco All'interno del nostro modello cloud base E del metaverso Forniamo formazione Quindi corsi di formazione Forniamo contenuti Forniamo tutto quello che sono le necessità Di un agente immobiliare Nell'ambito del cloud base Ovviamente Tutto il software Tutti i siti Dai quali possono scaricare Tutto quello che riguarda L'attività dell'agente immobiliare Dai mandati Siete tutti agenti Quindi conoscete Senza che mi dilunghi nell'intervento Tutto quello che è necessario Per essere operativi Da un minuto all'altro Per quanto riguarda un agente immobiliare E il concetto del metaverso Ci permette di essere Ogni giorno In una stanza come questa Indipendentemente da dove arrivano le persone Stamattina Gerardo ha detto Quanti chilometri ognuno ha fatto Noi hanno fatto 400 per arrivare qui Ecco pensate che questa cosa Che stiamo facendo oggi noi qui Dal vivo La facciamo dal vivo Nel metaverso Con 239 persone Che stanno in questa sala Ogni giorno In tutto il mondo Con i nostri agenti italiani Con gli agenti Del resto dei paesi Ecco E la tempestività Che Dell'informazione Trasmessa verso i nostri agenti immobiliari E questo crea Tra gli agenti La possibilità Della Diciamo collaborazione Termino col dire Che mentre adesso Voi sapete per esempio Qual è il mio nome Io non so Il nome di buona parte Delle persone che sono qui Se fossi una stanza virtuale Come il nostro metaverso In questo momento Avrei l'elenco Di tutte le persone Che sono in quella stanza E potrei contattarle Immediatamente Una a una Ecco Le possibilità Che mi offre Una piattaforma digitale Per mettermi in connessione Con altre persone Quindi Attualmente viene utilizzato Sia come mezzo B2B Tra colleghi Ma Se poi passate Il nostro stand C'è un QR code E potete fare la foto Col telefonino Entrerete nel nostro metaverso B2C Dove abbiamo già Cominciato Per esempio In Sudafrica A fare anche Gli open house virtuali E anche vendere case Reali Attraverso la connessione Tra agenti e clienti Nel metaverso Molto interessante Soprattutto Per le generazioni Quelle giovani Come me Che sicuramente Io sono appassionato Anche ossessionato Dalla tecnologia Quindi per me Questo è veramente Sento parlare di queste cose Sono temi importanti Quando Abbiamo cominciato A sentir parlare Più o meno Nel 2016 Di PropTech La nostra categoria Ha fatto un balzo Indietro Tutti quanti Spaventati Oddio Il PropTech Ci toglie lavoro Qualcuno Dei presenti Qui era proprio Testimone di questa cosa Mi riferisco a Victor Ranieri Nel frattempo Casavo Era arrivata Come prima PropTech Virtuale Cioè prima Scusate Virtuosa In Italia Che portava un modello Innovativo Anche Nelle Compravendite Ecco Intanto Avete introdotto Una interessante Modalità di collaborazione Per servire Al meglio I clienti Venditori Che si rivolgono Direttamente a voi Unendo le forze Anche In questo momento Con le agenzie Immobiliari Che quindi Sono diventati I vostri partner Ci vuoi spiegare Come funziona? Vai vai No Spento? Presidente Ecco Perfetto Innanzitutto Bombo parigi a tutti E grazie sempre a te Paolo e Gerardo Per questo splendido Evento Correttissimo Quello che hai detto Penso che Il fil rouge Della tavola Sia la tecnologia Quindi quello che stiamo Cercando di fare Con Casavo In Europa Perché oggi Casavo A tutti gli effetti In realtà Europea Siamo nati in Italia Nel 2017 Oggi siamo presenti In Spagna In Portogallo In Francia Quindi ci stiamo Siamo cresciuti molto Negli ultimi quattro anni Stiamo davvero Cercando di massimizzare I risultati Combinando la tecnologia E la professionalità Degli agenti Che lavorano con noi Casavo è nata Come un instant buy Rimobiliare Definizione che Penso ormai Tutti conoscono Ovvero la piattaforma Che si pone Come acquirente diretto Dell'immobile E già da quel modello Di business Che è tuttora Il nostro core business Con il quale siamo entrati Sui mercati C'è una grande sinergia Con il mondo Tradizionale Degli agenti immobiliari Appunto Proprio perché Casavo si pone Come un acquirente Diretto dell'immobile Quindi è l'agente immobiliare Stesso che Offre questo servizio Al proprio cliente Negli ultimi anni Poi ci siamo Evoluti E la nostra piattaforma Sta diventando Sempre più Un marketplace A 360 gradi Dove oggi Siamo in grado Di offrire Dei servizi Diversi In base Alle esigenze Del venditore Quindi offriamo Appunto Il servizio Di ibuyer Che è un servizio Distintivo Diretto A risolvere Un problema Che è quello Della vendita Dell'immobile Quindi siamo Partiti dall'offerta Offriamo però Anche un servizio Dove sostanzialmente Cerchiamo di vendere Insieme Al venditore E insieme All'agente immobiliare Partner Di quel mercato L'immobile Sul mercato Tradizionale Con una commercializzazione Più tradizionale Mettendo sempre A disposizione La nostra tecnologia Il nostro know-how Soprattutto Di pricing Ma soprattutto Anche la professionalità Della gente Che lavora con noi Che ha già lavorato Con noi Probabilmente Su quel mercato Che conosce Quella microzona E quel mercato Specifico Quindi Diciamo che Grazie alla nostra Tecnologia Grazie ai nostri Investimenti massivi Comunque In marketing Che abbiamo fatto In questi anni Che hanno portato Casau a diventare Uno dei brand Diciamo Top of mind Nella testa Del consumatore Soprattutto Lato venditore Che oggi Ci contatta Ancora prima Di pensare Di vendere Proprio perché Siamo stati Una delle primissime In realtà Ad esempio A portare sul mercato Il nostro algoritmo Di valutazione Proprietario Che permette Di valutare Il proprio immobile In modo totalmente Gratuito E quindi Abbiamo Il bocchettone Sostanzialmente Dell'offerta Che viene Da Casavo Riusciamo a valutare Tantissimi immobili Riusciamo a generare Tantissimi contatti Di potenziali venditori Che oggi serviamo Con servizi diversi Entrambi I servizi Vengono potenziati Dalla collaborazione Che abbiamo Con gli agenti immobiliari Quindi Questo è un aspetto Molto interessante Continueremo In modo di evolverlo Proprio perché Pensiamo che La combinazione Fra la professionalità Della gente locale E la nostra tecnologia Il nostro brand Sia un mix Molto vincente E i risultati Comunque I risultati Di business Direttamente In modo molto pragmatico Degli agenti immobiliari Partner Che lavorano con noi Sono abbastanza evidenti Quindi è una sinergia Molto interessante Tra le varie soluzioni Che sono State introdotte In Italia Negli ultimi anni C'è una La proposta Di IAD Che è Sicuramente Molto innovativa Per il mercato italiano Siete stati i primi In Europa In particolare E quindi anche in Italia A sdoganare Il modello MLM Cioè Multi level marketing Nell'immobiliare E questo Che vantaggi Porta Al mercato Quindi Sia al lato venditore Che all'acquirente E alla gente Ovviamente Grazie Paolo Allora Per riprendere Il discorso Del digitale Anche noi Siamo nati Digitali Nel 2008 Ma vorrei Sottolineare Una cosa Che i colleghi Hanno in parte Già detto Che è proprio Quella di mettere La tecnologia Al servizio Dell'umano Io preferisco Definire IAD Human centric Piuttosto che Tech centric E questo Proprio perché Abbiamo integrato Il network marketing Nel Diciamo Nel settore Dei servizi immobiliari Che penso sia La più grande innovazione Che abbiamo visto Nel settore immobiliare Degli ultimi anni Per tornare alla tua domanda Sui vantaggi Dell'MLM Per agenti E per clienti Innanzitutto Per gli agenti Abbiamo Diciamo Creato Una nuova opportunità Una nuova possibilità Di crescita Per il singolo professionista Che può Aggiungere Alla propria Attività Tradizionale Di acquisizione Trattativa Vendita Quindi alla propria Produzione personale Anche Un secondo Cappello Che è quello Di sviluppatore Di fatto Quello di una creazione Di una propria Squadra Di collaboratori Una squadra Che si può Autoalimentare Si può animare E che può A sua volta Crescere E vivere anche Di vita propria E quindi Rappresentando Potenzialmente Nel tempo Un flusso Economico Completamente Diverso E non correlato A quella che è La propria Produzione personale Lato consulenti Quello che direi È che Grazie al modello Del network marketing Facciamo un esempio In IAD Per una singola vendita Potenzialmente Possiamo avere Fino a 14 consulenti Che ne beneficiano Economicamente E quindi Se possiamo Riassumere In poche parole Il grande vantaggio Del network marketing Applicato a questo settore È quello dell'allineamento Degli interessi Sappiamo che L'unione fa la forza Questo è ovunque In qualsiasi settore Ed è chiaro Che avere 4, 5 O Nell'estremo 14 persone Direttamente interessate Alla conclusione Di quell'affare Farà sicuramente La differenza E l'ultimo punto È L'internalizzazione Scusate Ne abbiamo parlato Stamattina Il network marketing Permette di creare Non solo Un'unica Grande rete Nazionale Nel nostro caso Che non è Separata Come può essere Il modello tradizionale Dei franchise Con delle singole Agenzie Che Collaborano Più o meno bene Ma un unico Grande network Addirittura Internazionale Con regole chiare Trasparenti E che quindi Inevitabilmente Spingono verso Meritocrazia E democrazia Allora A proposito Di innovazione Rockagent È stata In Italia Tra le prime Realtà Ibride Cioè Digitale Più agente Mi rivolgo A Daniel Debas Ma questo Mercato Immobiliare È compatibile Con questo Approccio E quanto Buon pomeriggio A tutti Ma La risposta Che ti darei È C'è una Potenzialmente Siamo compatibili Con il 100% Del mercato Questo È un modello Di agenzia Che è stato Pensato E costruito Sulla base Di quelle che sono Le esigenze Dei due Attori principali Quindi gli agenti Immobiliari E i clienti Noi di Rockagent Siamo partiti Alla fine Nel 2018 In quel mercato In quel momento Il mercato Evidenziava Delle caratteristiche Molto interessanti Per l'introduzione Di questo modello Mercato Molto frammentato Con la presenza Di migliaia Di agenzie Innovazione Tecnologica Proposta Dai portali Immobiliari Che però Coprono Una piccola Parte Della catena Del valore E clienti Non sempre Bienamente Soddisfatti Della Offerta Presente Sul mercato Quindi Prendendo Spunto Da questi Tre punti E andando A focalizzarci Su quello Che è Invece La gestione Dell'agente Immobiliare Vediamo Che il processo Di compravendita È rimasto Invariato Negli ultimi 20 anni Ad esempio Un'attività Core Come quella Della generazione Di incarichi È un'attività Che viene Svolta Spesso Senza Un approccio Digitale Un approccio Che potrebbe garantire Una maggiore scalabilità Del numero Degli incarichi Nel tempo Quindi Partendo Da queste Considerazioni E da tanti altri Step Che abbiamo Identificato All'interno Del processo Per renderli Più Efficienti Abbiamo Plasmato Quello Che è Il modello Di agenzie Immobiliari Ibrida In Italia Con l'obiettivo Di Dalla parte Valorizzare Il ruolo Dell'agente Immobiliare E dall'altro Aumentare La percezione Che ha Il cliente Del lavoro Del mediatore Stesso Per farlo Ci siamo Concentrati Su quattro Macro aree Principalmente La prima È quella Che riguarda Il marketing Quindi noi Dal 2018 Oggi Abbiamo Incrementato Anno dopo anno In modo significativo Il nostro Investimento Marketing E continueremo A farlo Con l'obiettivo Di costruire Una solida Brand equity E aumentare In maniera Proporzionale Il numero Delle lead In modo tale Da supportare Gli agenti Immobiliari Nell'ottenimento Di nuovi incarichi Altro punto Significativo È quello Della centralizzazione Dei processi Abbiamo Industrializzato E digitalizzato Molte attività Che sono gestite Dalla sede centrale Che lavora A supporto Degli agenti Immobiliari Di tutta Italia Quindi da un lato Abbiamo Dei team Verticali Molto forti Che svolgono Dalla sede centrale Attività come Back office Customer service Tecnologia Marketing Eccetera E dall'altro Abbiamo team Una digital company Un digital company Appunto Nati Con un DNA Digitale Crediamo Quindi Che la La crescita Di Aerocagent Deba necessariamente Passare attraverso Un forte investimento Nell'innovazione E per farlo Sviluppiamo Internamente I nostri software Che studiamo E implementiamo Su misura Per quella Che è la nostra Operatività E per garantire Agli agenti Immobiliari Strumenti A supporto Del loro lavoro E non viceversa Quarto E ultimo aspetto È chiaramente La rete diretta Abbiamo scelto Di costruire Una Una nostra Rete Mi sentite? Stiamo andando Solo in audio Ti vediamo frizzato Non c'è più Non c'è più Ci senti? Ci siamo Perfetto Grazie Grazie Qualche secondo ancora Vai Sì Vado con Col quarto E ultimo punto Che è la nostra Rete di agenti Immobiliari Una rete diretta Che abbiamo Deciso Di costruire Non optando Per la scelta Di una rete In franchising Ma una rete Di agenti Appunto sul territorio Composta da Professionisti Selezionati Che sono Portati ad essere Altamente performanti E sui quali Investiamo Quotidianamente Per trasferire Quello che è Il nostro metodo E renderli sempre Più Più produttivi Quindi Per concludere Quattro anni di lavoro Siamo presenti In 25 città Abbiamo la volontà Di raggiungere Chiaramente Una copertura nazionale La nostra ambizione Chiaramente È quella di Avere Agenti sempre più produttivi E confermati Quello che stiamo Facendo oggi Ossia Siamo capaci Di garantire Un servizio Eccellente Proprio grazie A questa Interazione Del lavoro Con una sede centrale Garantiamo Un servizio Di alta qualità Uniforme Dal nord Italia Al sud E questo È un elemento Che ci viene riconosciuto Dai clienti Anche attraverso Le tantissime recensioni Che abbiamo raccolto In questi anni Grazie Grazie Daniel Perdonami Ma dobbiamo essere Un po' più brevi Perché altrimenti Il tempo non basta Per esprimere Tutti Il nostro pensiero Allora Ilaria Profumi Regional Director EMEA Realty EXP Esperienza internazionale EMEA Ricordiamo che riguarda Tanti paesi Li ho dovuti segnare Perché a memoria Non ricordo UK Europe Middle East India E Africa Abbiamo parlato Di nuovi modelli Di intermediazione Qual è il paese Dove vedi Maggiore ricettività Verso questi nuovi modelli Rullo di tamburi Sì eh Tutti si aspettano No innanzitutto Italia Lasciami fare Una brevissima Una brevissima premessa Legata proprio Al tempo presente Che è l'hashtag Che caratterizza Questa giornata Siamo di fronte Ad un momento Trasformativo E non parlo quindi Di momento recessivo Ma Il momento trasformativo Importantissimo Dove Le nuove tecnologie Da oggi Ai prossimi Cinque anni Con La tokenizzazione E i metaversi Di cui hanno parlato I miei Compagni di tavola rotonda E Rudy In precedenza Ed altri Faranno da padrone E trasformeranno Enormemente Il mercato Immobiliare Quindi siamo di fronte Anche ad una grande sfida Che è la sfida Di ciascun agente Immobiliare E di ciascun mercato Che è quella di Far parte Di questa trasformazione O ad esserne Tagliato fuori Da questo Mi collego Quindi Un'analisi Su quelli che sono Quali sono I paesi Più ricettivi Facendo Tornando indietro Nel tempo E ricordando Come negli anni Novanta Soltanto in Italia Con il boom Dei franchising Avevamo ben Settanta Branding Franchising Negli anni Novanta Ad oggi I branding Franchising Comunque Conosciuti Diciamo E che Hanno La fetta di mercato Circa del 10% Come è stato citato Questa mattina Sono circa 10 Quindi Stiamo affrontando Sicuramente Un momento simile A quello che è stato Negli anni Novanta E quindi Facendo un'analisi Di quelli che sono Di quella che è la realtà Nei vari paesi Posso dire che Da UK A Sudafrica A alcuni Mercati europei Piuttosto che All'India Più o meno Le digital company The real estate Si attestano Sulle sette Circa Per paese Quindi c'è proprio Una volontà Si vede una volontà Da parte degli agenti Immobiliari Di esplorare Queste nuove modalità E di cogliere L'occasione appunto Di far parte Del presente Del futuro Una distinzione Va fatta con la Francia Dove la prima Digital company È nata nel 2001 E non è IAD Ma è Capi France E in Francia Ne troviamo Ben 25 Quindi venendo A quello che fa La differenza Tra le digital company E le agenzie immobiliari Ero al tavolo ieri Con un mio ex collega Che mi diceva Voi siete i migliori Siete i migliori Mi diceva scherzando Non siamo migliori Non siamo peggiori Siamo diversi Quindi facciamo le cose In modo diverso Come hanno detto già Altri interlocutori A questo tavolo Cosa facciamo di diverso Chi più chi meno Diversi processi Che utilizzano appunto Le nuove tecnologie Che mettono al centro Una customer journey migliore E mettono al centro La gente E qui arrivo Alla chiusura Del mio intervento Dicendo Fino a qualche tempo fa Si pensava Ed anche questa mattina È stato detto Ma con la digitalizzazione Stiamo andando Ad una Disintermediazione Scusami Disintermediazione Del mercato È proprio il contrario Grazie alla digitalizzazione La gente È il primo cliente La gente È al centro E è sempre la gente Che fa la differenza Quindi qualunque sia La tecnologia Che viene utilizzata È la gente Che fa la differenza E soltanto In un mercato Dove Diverse L'offerta È variegata Il cliente Farà la differenza E potrà scegliere La gente migliore Allora iniziamo Con un secondo round Di domande E vi chiedo A questo punto Visto che siamo andati Leggermente lunghi Ma appena Appena Vi chiedo Di proprio Darmi delle risposte In pillole Allora Tornando a quali sono Gli elementi di diversità Quindi mi rilego A XP Chiedo a Dennis Quali sono questi elementi Di diversità Provo per rivolgersi Al mercato italiano Che proponete Allora Innanzitutto Dico una cosa Che potrebbe essere scontata Ma sembra che in Italia Non lo sia Da noi Possono entrare Solo agenti immobiliari Abilitati Quindi significa Che agenti Da noi Parlano la stessa lingua Hanno la stessa cultura La stessa mentalità Ed è molto più facile Grazie alla formazione Elevare Le capacità E la professionalità Degli agenti Gli agenti Scelgono Di entrare in XP Perché hanno uno spazio Per realizzare La loro opportunità E quindi Trovano spazio Per evolversi Spazio per crescere Spazio Soprattutto Anche per abbracciare Nuovi settori Che prima Non trattavano XP Lavora con tre brand Reality Quindi residenziale Commercial E luxury Ognuno di questi tre brand Ha tre filoni Di formazione Quindi l'opportunità Per i nostri agenti È quello che talvolta È capitato anche a me In passato Quando facevo solo residenziale Di avere un'opportunità Commerciale del lusso E non la trattavo E qui non sapevo nemmeno Cosa fare O come fare Ecco All'interno di XP Un agente Può ricevere anche Un incarico Di una cosa Che non è abituato a trattare Cioè non è il suo pane Quotidiano E può all'interno Della rete Poter tranquillamente operare Termino Perché vedo che siamo Devo ancora parlare Gli altri Quello che diceva Anche prima Il collega Di Adi L'opportunità Che grazie Alla digitizzazione Passa attraverso La internalizzazione Noi siamo attualmente Presenti Questa settimana Anche a Dubai Quindi in 24 paesi L'Italia È al centro Dell'interesse Degli investitori Di questi paesi Dove noi siamo E quindi è molto interessante Questa cosa Dove i nostri agenti Non hanno necessità Nemmeno Di avere un portale Per far vedere L'immobile Ma possono lavorare All'interno della rete Per trovare un agente Che abbia un cliente Per comprare in Italia Grazie Denis Victor Casau ha sempre fatto Affidamento sulle agenzie Per la fase di rivendita Dei propri immobili E l'esperienza Dei potenziati Insomma Come sta evolvendo Questo rapporto Con le agenzie Perché voi Molti ci dicono Insomma Mi dicono Do l'immobile a Casavo Poi chissà Se mi fa rivendere Quell'immobile Detto in maniera Cruda Da agente immobili Chiarissimo il messaggio No A parte gli scherzi In Casavo C'è questo percorso Lo stiamo facendo insieme Quindi siamo assolutamente convinti E dal primo giorno Siamo molto inclusivi Della categoria Proprio perché Questo percorso Si può fare insieme E in Casavo Nel costruire La piattaforma residenziale Di prossima generazione In Europa Stiamo offrendo Ci stiamo evolvendo Come dicevo prima Stiamo offrendo Una serie di servizi Per chi deve vendere Per chi deve comprare Per chi ha bisogno Di un mutuo Un anno fa Abbiamo lanciato Anche la Casavo Mutui Per chi ha bisogno Di un arredo Quindi stiamo diventando Una piattaforma Un marketplace Sempre più olistico E in questo senso Le possibilità Di sinergie E delle collaborazioni Con gli agenti immobiliari Sono varie Quindi si stanno evolvendo Quindi la prima risposta A te Paolo È questa Diciamo Le sinergie si stanno evolvendo E sono molteplici E oggi Provo per avere Un canale diretto Con le agenzie immobiliari Abbiamo creato Una piattaforma Dedicata agli agenti immobiliari Che si chiama Casavo for agency CFA Come la chiamiamo noi Quindi CFA Non è solo Un certificato finanziario Che il nostro vecchio banker Manuel conoscerà Però è la Casavo La piattaforma dedicata Per gli agenti immobiliari Quindi una piattaforma Dove l'agente immobiliare Può accedere Alla generazione di incarichi Generati da Casavo Può accedere Al nostro portafoglio In vendita Può utilizzare Il servizio ibuyer Può utilizzare Il servizio Casavo Mutui Quindi diciamo Sono una serie di servizi Che oggi noi offriamo Al mercato E alle agenzie immobiliari Provo perché penso Che la nostra asset class È una delle più grandi In Europa Al mondo È la meno digitalizzata È la meno trasformata Ad oggi Sta cambiando un paradigma Perché stanno cambiando Le abitudini Del consumatore Penso che siamo arrivati A un punto di svolta Dove questo mercato Sta radicalmente cambiando Noi diciamo Come piattaforma Vogliamo cambiare radicalmente Il modo in cui le persone Vendono, comprano E vivono la propria casa E penso che questo percorso Digitale Si possa assolutamente Fare insieme Alla categoria Manuel state crescendo Anche attraverso acquisizioni Di grandi strutture commerciali Tuttavia Qual è il profilo Tipo dell'agente singolo Che decide di lavorare Con gli AD Ho 30 secondi No vai dai Te ne do pure 31 Allora Cerco di puntare Il laser Su due aspetti Principali Noi puntiamo molto Sull'imprenditorialità Dei nostri consulenti Proprio per quello Che abbiamo detto prima Del network E i due aspetti Che vorrei sottolineare Come grande differenza Rispetto Al modello tradizionale Se così vogliamo chiamarlo Sono due punti deboli Che insomma Tutti in questa sala Conoscono Da una parte è Cosa ci rimane Alla fine Della nostra carriera Corriamo Costruiamo No Il criceto Che gira Ma Alla fine Il nostro La nostra impresa Dipende Quasi esclusivamente Sui nostri sforzi Il modello IAD E in generale Del network marketing Permette proprio Di crearsi Un patrimonio Che va Al di là Dei propri sforzi Questo È un punto Cruciale E quindi Di costruirsi Un futuro Che può diventare Un flusso economico Perenne E indiretto E l'altro punto Che secondo me Noi andiamo a risolvere L'altro punto debole È quello della fidelizzazione Dei propri collaboratori Sappiamo che Un broker Un titolare di agenzia Insomma Spesso fa crescere Dei giovani talenti Che alla prima opportunità Salutano E magari Aprono Un'agenzia A pochi passi Per fare una concorrenza diretta Ecco Questo in IAD Non può succedere Perché abbiamo visto Che Con la crescita Della rete Il tasso Diciamo Di Di cern Quindi Di addio Dei propri Associati Dei propri collaboratori Scende drasticamente Dal momento In cui si comincia Ad avere Una squadra Di lavoro Quindi Direi che questi Sono i due punti Differenzianti Principali Rispetto a Allora Ilaria L'interesse generato Dai nuovi modelli Di mediazione A quali bisogno Degli agenti Stanno rispondendo Tre Fondamentalmente Libertà La gente costruisce Per se stesso Pressoché Tutti i modelli Digitali Costruisce Per se stesso E imprenditore Di se stesso Grazie a Come accennato Manuel A dei programmi Di equity E di ritorno Di revenue Che gli consentono Di avere Il ritorno Da imprenditore Senza L'investimento Quindi lo stress E i costi Che ha un imprenditore Con un ufficio E degli asset Fisici Convenienza E risparmio Bene Chiedo A Daniel Di essere Super veloce Con lo sviluppo Di una tecnologia Sempre più parte Dei processi Il professionista Corre il rischio Di non essere Più protagonista Del percorso Di vendita No A posto Buonasera Continua Breve Perché siamo fuori Abbiamo sforato Questo è quello Che è accaduto In tantissimi Altri settori La tecnologia Ha veramente Eliminato La figura Dell'intermediario fisico Sostituendola Con la piattaforma Il futuro Dell'agente immobiliare È ben saldo Al centro del processo Perché questo Non accadrà Non accadrà mai Nella nostra visione Comune Internazionale Gli agenti Continueranno A fare la differenza Nel processo di vendita Perché sono Dei professionisti Che basano Il rapporto Sulla fiducia E questa Non si può Digitalizzare Quindi Secondo noi Stiamo vivendo In assoluto Un'occasione unica Per gli operatori Del settore È stata colta Perché se Fino a qualche anno fa Si guardava Il digitale Come appunto Uno strumento Di disintermediazione Adesso c'è la Piana consapevolezza Che così Non sarà Bene Allora io Vi ringrazio Grazie per la sintesi finale Grazie Grazie a tutti